salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video dji ha appena rilasciato un aggiornamento firmware per il mavic air 2 ma di quelli belli consistenti parliamo di 178 mega di aggiornamento per la versione 01.00.0 250 questo è l'aggiornamento firmware rilasciato da dji è un aggiornamento che veramente elenca un sacco di novità per questo drone novità o miglioramenti per questo fantastico drone che il mavic air 2 un drone sicuramente pazzesco che merita davvero di essere acquistato allora andiamo con ordine andiamo ad elencarle tutte preparatevi ragazzi perché sono davvero tante queste novità introdotte da dji per il mavic air 2 allora è stato introdotto la possibilità di rilevare per il mavic air 2 in maniera automatica un soggetto da tenere a fuoco quindi sarà lui a decidere quale soggetto continuare a tenere a fuoco quindi un focus track appunto e mantenerlo sempre con diciamo il focus ideale e in più è stato introdotto un miglioramento ulteriore al focus track appunto in qualsiasi situazione quindi in ottimizzazione per il focus track poi è stata introdotta la possibilità di tenere una traccia dei soggetti quando useremo il free hyperlapse quindi andremo a tirare un rettangolo intorno al soggetto quindi questo oggetto verrà tracciato dal mavic air 2 nella funzione free hyperlapse poi è stata aggiunta la possibilità di archiviare gli hyperlapse in modalità 8k e la possibilità appunto di andare a riguardare questi filmati in 8k o meglio questi hyperlapse in 8k quindi andando ad aumentare la compatibilità con i player multimediali quindi per i player che ci andranno a riprodurre i file video e in più la possibilità di archiviare questi hyperlapse in 8k in formato raw quindi per chi vuole utilizzarli in post produzione potrà adesso utilizzare in formato raw quindi tipo a me non è una cosa che interessa perché difficilmente usi formato raw però per tanti diventa una cosa davvero importante soprattutto per chi utilizza il mavic air 2 per lavoro a livello cinematografico poi è stato aggiunto delle segnalazioni quando il gps ha delle interferenze quindi quando il gps avrà delle forti interferenze ci verrà segnalato poi è stata aumentata la velocità a 19 metri al secondo quanto si utilizza spotlight in modalità sport è sicuramente una figata pazzesca perché già spotlight è una cosa che secondo me merita tanto e sicuramente andando adesso ad aumentare la velocità a 19 metri al secondo migliora tantissimo appunto la versione spotlight in modalità sport e in più adesso è possibile usare spotlight anche di notte anche se sappiamo che comunque volare di notte qui da noi non è una cosa legale però sappiamo che adesso questo drone può essere utilizzato in modalità spotlight anche di notte quindi continuiamo con le novità ve l'ho detto che erano davvero tante e un'altra cosa che è stata ottimizzata è lo smart return to home quindi il return to home che non aveva ancora un precision landing in teoria adesso dovrebbe essere stato ottimizzato quindi dovrebbe avere un return to home molto più preciso perché adesso è stato migliorato anche da questo punto di vista poi è stato ottimizzato e questo secondo me è una cosa che ci voleva che quando andremo a selezionare con il dito sullo smartphone un soggetto per il quick shot o l'active tracker dovrebbe essere una cosa migliore rispetto a prima cioè dovrebbe avere un'efficacia migliore appunto la selezione col dito che andremo a fare e poi come ultima cosa siamo arrivati alla fine di tutti gli aggiornamenti introdotti per il mavic air 2 è stato migliorato il rumore video quindi la qualità video quando si registra con l'hdr di notte vi ripeto di notte in in italia non si può volare però per chi lo vuole fare lo stesso o perché comunque non vive in italia c'è la possibilità di avere una qualità video in hdr migliorata appunto in modalità note in hdr quindi ragazzi è un aggiornamento che assolutamente dovete fare se avete un mavic air 2 e per chi ancora non ha acquistato un mavic air 2 e ha dei dubbi se acquistarlo o meno con questi aggiornamenti magari qualche dubbio gli è andato via perché c'è stato un netto miglioramento nelle funzioni e nelle caratteristiche appunto di questo mavic air 2 che sicuramente migliorerà ancora quegli aggiornamenti perché probabilmente dji ha rilasciato sì il drone nei tempi prestabiliti che si era prestabilito ma era un po' indietro a livello di firmware causa coronavirus quindi con diciamo tutti i rallentamenti causati da questa pandemia anche dji ovviamente ne ha risentito sebbene è diciamo un'azienda gigantesca però magari l'impossibilità di farlo lavorare tutti i dipendenti nella stessa location facendoli lavorare da casa vi dicendo sicuramente a livello firmware e software è rimasta un pochino indietro è riuscito a presentare il prodotto nei termini che si era diciamo prestabilita all'inizio però tante funzioni che magari sarebbero state introdotte già alla presentazione del drone invece verranno introdotte col passare delle settimane però dji piuttosto che rilasciare delle funzioni magari non ottimizzate o che potrebbero diventare pericolose se non testate come fa dji solitamente con le sue funzioni diciamo a livello firmware preferisce non introdurle e introdurle poi in seguito quindi una cosa sicuramente da prestare da parte dji che può permettersi ovviamente tutti questi rallentamenti o meno perché comunque i suoi prodotti sono già top a prescindere quindi anche se non rilascia tutto il pacchetto completo e lo rilascia piano piano sicuramente il drone che andate ad acquistare è già un drone super top comunque quindi ragazzi se questo video in cui io ho parlato di questi aggiornamenti firmware del mavic air 2 che ha portato tante novità a un drone già incredibile vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale youtube e non perdevi neanche un video un volo un'accensione un test tutorial una novità ciao